Cambiamo argomento, l'Università di Cagliari compie 400 anni e stamane con l'inaugurazione della mostra nella sede storica del rettorato al via il calendario degli eventi programmati per la ricorrenza al servizio di Valerio Varcio. Il 31 ottobre l'Ateneo Cagliaritano festeggerà il compimento del suo quarto secolo di attività. Il programma prevede eventi organizzati centralmente dall'Università ma anche presso le singole facoltà, dal Centro Sportivo Universitario con il coinvolgimento della città metropolitana. E' per l'organizzazione delle celebrazioni da mesi in attività un team di docenti capitanato dal prorettore Francesco Mola. La prima tappa dei festeggiamenti al via già stamane con l'inaugurazione della mostra 400, una storia unica. Per ripercorrere i quattro secoli di vita dell'Ateneo del Capoluogo l'esposizione è stata allestita al piano terra della storica sede del rettorato ma è solo il primo degli eventi programmati che prevedono un fito calendario di manifestazioni che si protrarranno anche nel 2021. Continuiamo a voler crescere, crescere nel sapere, crescere nella cultura e guardate che non è una cosa da poco avere un Ateneo che compie 400 anni vuol dire che in tutto questo tempo chi ci ha creduto per davvero è la gente, tutti noi, i nostri antenati, chi ci ha preceduto, che ha voluto fermamente la crescita di una regione, la crescita di un popolo, la crescita di una terra grazie alla cultura e noi vogliamo festeggiarla tutti insieme. Questi 400 anni hanno segnalato un Ateneo in crescita continua ma il record probabilmente lo ha raggiunto alle soglie del 2020 con una posizione d'elite tra le università italiane. Ma sai non lo sappiamo se noi stiamo continuando a crescere per cui non ci mettiamo limiti, anzi diciamo che ogni volta facciamo un passetto in avanti e magari può capitare di fare mezzo passetto indietro però il trend è in crescita continua per cui io credo che anche quest'anno riusciremo a battere qualche record. Dall'unità d'Italia alla prima guerra mondiale, questo è il cartello numero 8 di un lavoro che racconta la storia dei 400 anni dell'università di Cagliari coordinato da Cecilia Taschi insieme a 15 bravissime colleghe, un impegno che è durato per un anno e mezzo. Eh sì, un impegno notevole diciamo abbiamo iniziato quando non eravamo in questa situazione diciamo particolare dettata dalla pandemia quindi si pensava di dover fare tutto all'esterno ma abbiamo poi diciamo recuperato nel momento in cui a marzo nel clou della organizzazione di questo lavoro abbiamo dovuto cambiare un attimino l'organizzazione e pensarla un pochino più ristretta e un pochino più dall'interno ma i risultati e gli obiettivi sono stati assolutamente raggiunti. Grazie.